Musica Amici buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Bordocampo Serie D andiamo a vedere questa sera tutto quello che è successo nella domenica sportiva per quanto riguarda il campionato di Serie D Girone G andiamo naturalmente a vedere anche i servizi che ci sono stati domenica andiamo a vedere i soraliri Olbia e Terracina Budoni e ascolteremo un Alessandro Grossi veramente grande, molto molto carico questa sera lo facciamo insieme ad un graditissimo ospite, arriva da sola si chiama Simone Mastromattei, centrocampista è un giocatore molto importante per questa squadra, lo ha dimostrato ma anche il vizio del gol ha giocato con Larezzo, Riccione, Monte Rotondo per alcune stagioni anche per quanto riguarda la Lega Pro in Serie C2 insomma un ragazzo molto molto importante che sta facendo veramente bene buonasera Simone e benvenuto buonasera allora prima di andare a vedere la classifica con i relativi risultati di questo campionato Simone che cosa è successo al 92esimo domenica? difficile da spiegare sembrava fatta alla fine al 92esimo l'arbitro affischiava un rigore molto molto dubbio che ci ha lasciato la mano in bocca era andata tutto come volevamo avevamo sbloccato il risultato nel primo tempo avevamo amministrato bene per tutta la partita un lancio lungo così alla disperata da parte della squadra avversaria che è il Selargius è uno scontro dentro l'arbitro come ce ne sono tantissimi l'arbitro ha pensato che era a rigore ha affischiato il rigore al 92esimo e è andata così anche perché Scarda non è l'ultimo arrivato no 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 affatto non è stato un rigore così eclatante come tante persone hanno detto per me specialmente che stavo lì davanti c'è stato un piccolo contatto come ce ne sono tanti è andata così purtroppo andiamo avanti e domenica ci sarà da rifarci anche perché pronti e via dopo il rigore c'era un rigore per il Sora e non è stato fischiato rigore per il Sora io sono del parere che se ha dato quel rigore quel rigore al 92esimo per il Selargius ce ne erano tre per noi al 95esimo purtroppo come sbagliamo noi sbagliano anche gli arbitri ha deciso che era andata così si guarda alla prossima partita allora con l'aiuto della regia andiamo a vedere i risultati con la relativa classifica per commentarli insieme a Simone ma anche con voi da casa che potete scriverci naturalmente tramite il nostro sms 331 12 45 625 Anzio Lavigno Latte Dolce 0 a 0 Arzachena Fondi 1 a 2 Cinzia Palestrina 1 a 0 Isola di Riolbia 1 a 1 Nuova Santa Maria delle Mole Lupa Roma 2 a 3 Porto Torres Astrea 1 a 1 San Cesario Maccarese Giada 3 a 2 Selargius Sora 1 a 1 Terracina Budoni 3 a 1 uno sguardo alla classifica che è rimasta quasi variata rispetto alla settimana scorsa con al comando la Lupa Roma con 30 punti segue il San Cesario a 29 si avvicina il Terracina a 25 non molla l'Isola Liri a 24 23 per l'Olbia e il Fondi 21 per Nuova Santa Maria delle Mole 20 per il Budone 18 Cinzia e Astrea poi Sora 17 Anzio Lavigno 16 Latte Dolce insieme con la Maccarese 14 Arzachena e Selargius 13 Palestrina 12 chiude il Porto Torres con 7 punti Simone allora sono queste due battistrata le squadre da battere in questo campionato la Lupa Roma e il San Cesario la Lupa Roma ha vinto tranquillamente domenica però il San Cesario sotto di due gol è riuscita a rimontare in una maniera veramente incredibile questa è la forza di queste squadre sì, rimontare due gol è sintomo di grande squadra San Cesario l'abbiamo incontrato come la Lupa Roma sono forse le squadre più attrezzate del campionato io non sottovaluterei anche il Terracina che mi ha fatto un'ultima pressione anche se con noi non è stato forse il Terracina di tutte le altre partite ripeto, la Lupa Roma ha oggi la candidata Lupa Roma che ha vinto anche questa settimana per quanto riguarda la Coppa Italia contro la Strea adesso giocherà contro una squadra dove hai giocato contro l'Arezzo sì, 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 sarà sicuramente una grande partita perché anche l'Arezzo ha allestito una squadra molto importante per vincere il campionato seguo ancora l'Arezzo e so che ci sono un po' di problemi tra tifoseria e allenatore che stanno un po' in protesta adesso stanno in silenzio stampa però ripeto, sarà una grande partita perché tutte e due le squadre sono molto attrezzate ecco, una Lupa Roma dicevamo all'inizio insieme con il San Cesario tu hai messo giustamente anche il Terracina ma da non trascurare anche questa Isola Liri che secondo me è una sorpresa di questo campionato ma fino a un certo punto però, no? no, no, sì, 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 per carità è una bella sorpresa perché noi l'abbiamo incontrata è stata una partita particolare quella è un derby sì, è una partita sì, per carità è un po' ci è rimasto molto amaro in bocca anche in quella partita e l'Isola Liri mi ha colpito tanto forse per il carattere che ha avuto e il carattere che ha questa squadra io penso che lo deve tanto al suo allenatore che è un allenatore molto che fa del suo carattere la sua arma migliore e riesce a trasmetterlo in maniera importante alla propria squadra infatti l'Isola Liri adesso sta a grandi livelli e sta in alta classifica bene, allora andiamo a vedere con l'aiuto della regia questo servizio realizzato domenica al Nazareth tra l'Isola Liri e l'Olbia quello che è successo al primo tempo è chiaro che ti penalizza tutto quello che è l'andamento della partita perché avere 4-5 situazioni importanti tra cui due clamorose davanti alla porta e non fai gol è chiaro che diventa difficile quando con una squadra come l'Olbia hai 4 occasioni clamorose non ne fai nemmeno una significa che la giornata non è positiva diventa difficile, è normale pure perché poi loro hanno l'attaccante che alla prima occasione non sbaglia e così è successo al primo errore che abbiamo fatto noi una copertura sbagliata l'attaccante ci ha punito abbiamo creato 4 occasioni clamorose e due fischiate un metro dietro in fuori gioco che non c'erano garantite perché stavo in linea io e guarda lì è chiaro che per noi vedere le tribune che non sono piene è chiaro che ci dispiace perché penso che il risultato sta recitando un campionato importante sta giocando secondo me bene e più di questo che possiamo fare noi non è che possiamo andare a prendere noi le persone a casa per portarla allo stadio penso che tutte le partite se vai a rivedere tra la Serie A la terza categoria quando si calci il rigore stanno tutti in aria nessuno rimane fuori dall'aria sempre da ripetere ogni partita dovrebbero ripetere e penso che quasi mai si ripete difficilmente lui ha avuto così ma la cosa che mi hanno fatto in nervosia del guardiatino sotto di noi era inguardabile inguardabile sempre di dad cioè veramente negativo a massimo beh un Alessandro Grossi veramente Simone a 360 gradi l'ha detto un po' a tutti quanti dal guardialini a tutto quanto il resto insomma questo è quell'allenatore veramente sanguigno che ti dà quella carica dentro lo spogliatoio ma anche quando è in panchina no? si si vede benissimo il carattere c'è io dico che queste interviste a caldo sono relative perché dopo 5 minuti che finisce la partita ancora la adrenalina addosso e non puoi essere così lucido per analizzare bene una partita per carità io non è la prima volta che incontro il mister l'ho incontrato anche quando giocavo a Pomezia in Lega Pro e lui ancora allenava l'isola Liri avevamo preparato proprio la partita perché loro erano molto aggressivi proprio come il suo allenatore e questa intervista dà soltanto la conferma del grande carattere che ha questo mister senti tornando al discorso di queste due squadre che sono prime in classifica secondo te vale di più l'esperienza che ha il San Cesario in questa categoria perché l'anno scorso ha sfiorato praticamente il passaggio in la promozione oppure questa questa grande squadra con grandissimi giocatori che ha la Lupa la Lupa Roma eh lo scorso campionato il San Cesario l'ha perso ha perso il campionato all'ultima giornata l'ultima giornata anche con dominandolo praticamente sì sì dominandolo è stato praticamente quasi quasi in testa fino alla fine d'accanto loro avevano anche una squadra come la San Benettese che non è l'ultima arrivata quest'anno la Lupa Roma come nome io sono del parere che la Lupa Roma sta davanti a tutti però il campionato è ancora lungo io penso che loro due saranno fino alla fine lì sopra anche se io ancora sono l'idea che il Terracina dirà proprio la sua sono convinto anch'io di questo visto che adesso si è aperto anche il mercato visto le due squadre anzi le tre squadre che sono lì sopra faranno sicuramente mercato si rinforzeranno per dare qualcosa in più no? sì 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 anche se vedendo la rosa hanno poco da rinforzarci perché hanno fatto una grande campagna acquisti quest'estate e quindi soltanto se devono se devono ehm devono analizzare alcuni errori alcune pecche che hanno alcuni reparti ma cambieranno davvero poco penso bene allora prima abbiamo chiamato il servizio la regia ci ha mandato giustamente anche l'intervista prima adesso ci andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato al Nazareth Isola Liri Olbia la striscia positiva dell'Isola Liri di quattro vittorie consecutive si interrompe con l'ex capolista Olbia un pareggio di uno a uno maturato con un gol per tempo in una partita dove l'Isola Liri ha sprecato molto e l'Olbia invece ha saputo monetizzare al meglio le poche occasioni da rete che ha saputo costruire pronti e via e al primo minuto era Caligiuri che faceva palla al piede metà campo arrivava davanti la porta il tiro era debole e centrale il portiere Sorrentino bloccava al tredicesimo indecisione Sarda in difesa Caligiuri ne approfittava palla servita all'indietro per Giglio che all'altezza del dischetto veniva però anticipato da un difensore al diciottesimo però la doccia fredda perché la formazione Sarda passava in vantaggio traversone da parte del numero tre Malesa colpo di testa del solitario Pezzo Bon che da solo metteva il pallone alle spalle dell'incolpevole Calderoni l'Olbia ci credeva al ventisettesimo ancora Pezzo Bon su calcio di punizione tiro centrale Calderoni deviava senza affanno in calcio d'angolo affanno invece che veniva allo stesso Calderoni al trentesimo su un forte tiro dalla distanza da parte di Doddo Calderoni in questa circostanza si salvava in calcio d'angolo i suoi liri si svegliava dal torpore al trentatresimo con una conclusione di Giglio che reclamava un fallo di mano del suo avversario al trentasesimo Franzese filava via sulla destra e metteva al centro per Caligiuri il tiro era forti teso all'angolino ma il portiere Sorrentino non si faceva sorprendere al quarantatresimo un tiro in aria di Franzese dalla destra il portiere in calcio d'angolo nella ripresa squadra di Soliri trasformata e alla prima vera occasione la squadra di Grossi pareggiava al decimo atterramento da parte di Pezzobon su Giglio Pezzobon veniva anche ammonito il calcio di rigore veniva ripetuto due volte e per due volte Raffaele Pozzello trovava l'angolino alla sinistra del portiere Sardo in tutte e due le occasioni ha segnato il gol regolare però era il secondo che dava l'opportunità di Soliri di cogliere il pareggio al quattordicesimo Caligiuri dalla destra conclusione forte ma centrale ancora una volta Sorrentino riusciva a bloccare a terra e un minuto dopo su calcio di punizione la conclusione di Caligiuri dal limite veniva bloccata un'altra volta dal portiere Sorrentino a terra brividi nel finale con Pezzobone che faceva tutto da solo al novantesimo si accentrava e calciava forte in porta Calderoni non si faceva sorprendere per l'Isola Liri è la prima delle due consecutive gare interne domenica prossima l'avversario di turno sarà Lanzio Lavino per la partita che potrebbe ridare nuova verba alla formazione di Grossi per tre punti che sono alla portata Simone battere un calcio di rigore segnare il pareggio poi l'arbitro te lo fa ripetere ci vuole anche una certa freddezza ribatterlo sì non è mai facile assolutamente io non sono un rigorista non posso dirlo però penso che al momento che tiri fai gol l'arbitro dice che devi ribatter è particolare la cosa se avessi tirato e l'aveva sbagliato era un po' più diverso però è di più carico praticamente è stato molto freddo Pozziello a metterlo proprio di piatto tranquillamente ha tirato due rigori simili però fortunatamente per loro ha fatto gol bene Simone torniamo al tuo solo abbiamo parlato prima di questa sconfitta che c'è stata domenica però voglio dire una sconfitta che poteva portare tre punti ne ha portati soltanto uno poi al 92esimo come è arrivata la squadra si è espressa abbastanza bene quando magari il Selargius stava giocando meglio ha segnato il Sora nel primo tempo poi nel secondo tempo ha giocato peggio il Sora e il Selargius magari a un certo momento aveva anche mollato voglio dire e ha trovato questo pareggio che secondo me è oro per loro sì 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 noi diciamo che per noi è quasi una sconfitta questo punto perché arrivare al 92esimo con quasi tre punti in tasca brucia poi la situazione eclatante è stata che tre minuti prima è stato buttato fuori il difensore loro e quindi pensavamo che la partita era quasi conclusa un episodio del genere ha compromesso la partita e è andata in pareggio poi parlando chiaramente noi venivamo da cinque sconfitte consecutive fuori casa noi ci esprimiamo fino a oggi ci esprimiamo molto meglio in casa un punto meglio di niente dai sì anche perché per fare arrabbiare Massimiliano Fari se ce ne vuole sì 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 anche lui è un sanguigno però è un sanguigno particolare perché lui è molto riflessivo e lucido anche nei momenti particolari però quando vedi certe cose quando vedi certe cose infatti è difficile è difficile pensare che che il mister perde così la testa però non non ha detto niente di particolare ha detto soltanto la sua opinione in maniera un po' fucosa però è andata così ecco ritornando naturalmente a Sora ritornando a questa squadra una squadra che come dicevamo all'inizio abbiamo detto anche con Claudio Tanzi è stata costruita proprio all'ultimo momento praticamente però sono arrivati anche buonissimi giocatori giocatori che hanno un certo spessore qualcuno di questo è andato via praticamente tipo Mucciarelli tipo Schipa che magari non si sono trovati anche Masi anche Masi voglio dire un giocatore molto importante per questa squadra che ha dato veramente tanto che non si sono magari trovati con l'allenatore come ha detto lo stesso Faris forse non le ho dato tanto io o non ho saputo prendere tanto da loro questo può succedere magari però ecco nonostante tutto la squadra sta reagendo bene sta rispondendo bene bellissima vittoria anche in casa voglio dire anche con il Porto Torres però il Porto Torres ricordiamo che ieri che domenica ha anche pareggiato vuol dire cioè non è che è una squadretta non è l'ultima arrivata anche perché adesso l'allenatore è andato via ha un po' smantellato se mi passi il termine in questo momento però il discorso sono sempre 11 giocatori contro 11 a me da fastidio certo questa è una squadra molto giovane sono 11 giocatori che giocano contro 11 giocatori voglio dire magari quello che è più giovane ha meno esperienza però pensa che ce la metta tutta no? no no assolutamente io partirei già dall'inizio da quest'estate che è stata una campagna acquisti d'estate molto sbrigativa diciamo certo all'inizio questo Sora non aveva un padrone diciamo poi all'ultimo minuto sono arrivati i presidenti attianese e pecorelli che hanno sistemato un po' le cose e quindi il direttore ha avuto talmente poco tempo per allestire una squadra che io penso che bisogna dare bisogna soltanto fargli un applauso per una squadra a questo punto così strutturata in così poco tempo diciamo che piano piano con con questa squadra stiamo stiamo ci stiamo ci stiamo giocando le nostre carte il nostro gioco il nostro gioco come come ci dice il nostro mister possiamo soltanto noi siamo una squadra che possiamo vincere e possiamo perdere con tutte perché noi privilegiamo palla a terra e giocare sempre quindi piano piano adesso sta uscendo il nostro gioco e purtroppo in questa categoria in questi campi spesso il nostro gioco diciamo non è non è agevolato sì anche perché lo hanno visto tutti quanti il Tomei in che condizioni è praticamente non si può giocare una squadra tecnica come voi come te come altri giocatori tipo pintori voglio dire che ricamano con il pallone voglio dire non riesce a giocarla in una certa maniera perché il pallone non riesce a fargli fare quello che tu dici quello che tu vuoi giocatori giocatori così tecnici sono penalizzati anche sia da parte nostra che dagli avversari che vengono diciamo che dal canto nostro siamo abituati diciamo tra virgolette siamo abituati nel nostro campo nel nostro stadio perché vi allenate spesso nella nostra casa sì noi ci alleniamo spesso e quindi diciamo che ci siamo abituati e ormai poi dati alla mano abbiamo fatto molto molto bene in casa e quindi non ci possiamo lamentare mettiamo che forse la nostra forza è il nostro campo però è veramente in condizioni vergognose il nostro campo tu hai parlato prima Simone di fare bene in casa è una squadra che gioca molto molto bene in casa riesce a fare punti in casa perché quando va fuori non si riesce ad esprimere come in casa no io non sono di questa parere non è che noi non ci esprimiamo come ci esprimiamo in casa diciamo che noi fino ad oggi abbiamo abbiamo avuto delle abbiamo vissuto delle partite particolari a Olbia dopo per esempio dopo 20 minuti stavamo sotto di 3 gol in 10 e praticamente poi abbiamo dominato tutta la partita abbiamo rimontato 2 gol e alla fine rischiavamo meritatamente di pareggiarla quindi noi la nostra idea è di giocarla in qualsiasi modo e con qualsiasi avversario diciamo che nelle mure amiche abbiamo avuto tra virgolette un po' più di fortuna a differenza di fuori casa quindi diciamo che è andata così e speriamo di rifarci presto possiamo dire Simone che questa squadra riesce ad esprimersi al 100% quando va sotto diciamo che all'inizio del campionato la nostra difesa era la meno battuta poi piano piano abbiamo avuto un po' di abbiamo preso un po' di gol per esempio a Olbia abbiamo preso 3 gol abbiamo preso 4 gol contro l'Isola Liri quindi ha un po' sbandato la nostra difesa ma non è colpa della nostra difesa perché quando fa male la difesa fa male il centrocampo fa male l'attacco io dico che è colpa di tutta la squadra quando si prende il gol non si può dare colpa al portiere o alla difesa o al centrocampo assolutamente e quindi diciamo che noi siamo in tutte le partite abbiamo vissuto partite molto equilibrate nessuna squadra ci ha messo così sotto da dire che l'ha meritata forse soltanto la lupa Roma ha avuto il pallino del gioco per gran parte della partita e ha meritato però per il resto io non ricordo partite che meritavamo di perdere o meritavamo di pareggiare diciamo che l'abbiamo vissuto tutto a viso aperto noi ci fermiamo un attimino a parlare del Sora perché andiamo subito a vederci questo servizio relativo alla vittoria del Terracina sul Budoni per 3 a 1 il Terracina blinda il terzo posto in classifica con i tre gol rifiliati al Budoni i padroni di casa hanno chiuso i giochi nella prima frazione con un tris che ha annichilito gli ospiti in avvio però i sardi si rendono pericolosi con Mastino che tenta di pensierire il portiere di casa De Giulio ma alla prima vera occasione arriva il vantaggio del Terracina è il 14esimo minuto Oggiano viene atterrato in area di rigore dal portiere ospite si incarica del penalty Marzullo che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi anche sull'1 a 0 i pontini continuano a premere sull'acceleratore al 22esimo ci prova Oggiano ad impensierire l'estremo difensore sardo lo stesso Oggiano due minuti più tardi non sbaglia sfruttando alla perfezione l'assist di Vano è il gol del 2 a 0 e sono ancora una volta Vano ed Oggiano i protagonisti della terza rete questa volta però è Vano a chiudere il match servito dal compagno nella ripresa i sardi hanno uno scatto d'orgoglio al decimo minuto infatti Mastino ad accorciare le distanze e a rendere meno amara la sconfitta il Terracina però ha più volte l'occasione per siglare addirittura la quarta rete ci prova a prima Vano ma il portiere ospite manda in angolo poi è la volta del neo entrato del prete che allo scadere ben imbeccato non riesce a superare il portiere finisce così 3 a 1 ora il Terracina è atteso da due trasferte proprio in Sardegna prima con il latte dolce poi l'11 dicembre nel recupero ad Olbia è una squadra molto potente lì davanti Simone una squadra che riesce a segnare con questo Marzullo che segna quasi tutte le domeniche poi c'è Oggiano un ottimo giocatore insomma giocatore di un certo valore sì sì lì davanti sono ben strutturati ho detto bene Oggiano e Marzullo forse in quella squadra fanno molta differenza anche lo stesso Vano forte fisicamente e sta facendo bene anche se è molto giovane perché è 91 quindi sta facendo bene anche poi esce lui e entra Fava quindi non sono gli ultimi arrivati è una squadra che ripeto a me Vitale anche mi ha impressionato tanto è una squadra che mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto forse anche più del San Cesario è una squadra molto concreta cioè quando decide di vincere vince non è che poi se c'è un po' di sfortuna in altre situazioni però è una squadra che quando scende in campo voglio dire è molto molto concentrata la fa ben giocare questo nuovo allenatore prima diciamo che c'era qualche dubbio sull'altro allenatore i risultati non arrivavano vuol dire Vedi Sora per esempio si ha avuto risultati alteranti infatti però io ripeto questa squadra mi piace tanto per me è una delle tre candidate ha una squadra che ha un gran mix di cattiveria di carattere e di tecnica perché lì davanti si fanno veramente paura quindi bisogna vedere soltanto come va avanti questa squadra perché poi se non sbaglio ho visto le immagini è ritornata nella propria casa nel colore è qualche settimana che giocano praticamente con i tifosi e quello è molto importante e quindi ha una marcia in più giocare lì in casa perché il tifo di Terracina è molto caldo è molto sentito quindi penso che è una cosa in più per loro quello che manca un po' a voi è il Sora sì diciamo che noi sentiamo sentiamo tanto l'attaccamento l'attaccamento dei tifosi ma purtroppo lo sentiamo spesso e volentieri ma non non lo vediamo diciamo che ci sono stati tanti disguidi tra tifoseria tra società perché la tifoseria è molto molto ferita da questi ultimi anni e quindi è molto molto diffidente con le persone che entro le nuove persone che che fanno parte della società quindi io spero tanto che questa questa lontananza sia una cosa breve e ritorna il Tomei come era una volta sì anche perché se noi andiamo a vedere un po' indietro con gli anni io non parlo degli anni del professionismo del Sora quando era in C1 in C2 ma ti parlo quando è rinata questa squadra ti parlo della promozione dell'eccellenza a Sora c'erano 2000 persone 2500 persone sugli spalti voglio dire adesso con una bella squadra come questa i risultati stanno arrivando ecco a me piacerebbe come conduttore come voglio dire e anche come difuso nel senso che magari vedere una bella partita con tanti con tanti difusi è molto molto bello no? allora avere questa spinta in più avere questo dodicesimo uomo in campo o che è veramente in campo è fondamentale perché il fiato vi spinge praticamente no? è fondamentale per una squadra come la vostra sì è fondamentale per la squadra per la squadra di casa cioè noi è molto difficile giocare per una squadra che ha avversaria per le avversarie che vengono perché il nostro stadio è un po' al modello all'inglese è tutto attaccato mi piace tanto questo stadio e vederlo così vuoto mi fa male mi dispiace tantissimo perché questa spaccatura ripeto questa spaccatura non è brutta è brutta vederla però io vorrei fare un grande applauso ai nostri 22 tifosi che ci hanno seguito che sono venuti in Sardegna e non è la prima volta anche a Olbia sono venuti quindi diciamo che l'inizio l'inizio fa beh sperare speriamo che questa questa spaccatura prima o poi ritorni tutto insieme secondo te che cosa ci vuole per abbattere questo muro che c'è tra voi e la tifoseria io penso che la la vincita del campionato no questo 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 abbatterebbe qualsiasi cosa io il mio parere è che questa la nostra tifoseria è stata tanto ferita dai personaggi che facevano parte di questa società perché poi come hai detto tu anche dalla prima categoria l'eccellenza la promozione in campionati minori il tifo è sempre è sempre stato vicino alla squadra e alla società purtroppo è stata ferita e quindi le ferite non si rimarginano così facilmente e penso la cura migliore è che ci devono essere come adesso ci sono persone serie persone coerenti di quello che fanno io spero tanto che anche il sindaco sia dalla nostra parte è un argomento un po' particolare è un argomento un po' particolare quindi diciamo che iniziando dal sindaco a partire da lui a arrivare fino all'ultimo cittadino sia con noi e creare il nostro progetto io vorrei anche aggiungere Simone se mi permetti i tifosi non possono lasciare da soli questi due gioiellini che stanno per nascere a Sora Prata e Lilla no? si si sono appena arrivati che si stanno comportando molto molto bene molto bene si si sono due sorani e quindi penso che anche al di Fosiria faccia piacere questo sono due giovani di bella prospettiva e sono soprattutto brevi ragazzi e questo non è da sottovalutare perché prima del giocatore viene l'uomo e quindi penso che è un buon inizio io questa domanda te la devo fare però come mai hai lasciato Arezzo per arrivare a Sora? un po' colpa di Claudio Danzi penso eh no la colpa la colpa non è di nessuno nel senso buono voglio dire si si no 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 per carità io con il direttore Claudio Danzi ho un rapporto che ci lega da moltissimi anni lui mi ha scuato diciamo così nei campi nei campi provinciali di Roma e da quel giorno sono sempre stato con lui io no e quindi al momento che lui lui mi ha telefonato e mi ha detto che il che il suo intento è andare a Sora e fare una bella cosa come la fece a Pomezia come inizio a Pomezia io non ci ho pensato due volte levando la piazza levando qualsiasi altra cosa perché lasciare una piazza come Arezzo non è mai facile certo e quindi io spero spero di non di non essermi sbagliato e quindi di fare di fare grandi cose qui anche perché tu hai iniziato a Montevarchi no? sì io ho iniziato a Montevarchi in serie D sì in serie D avevo ero piccolo avevo 16 anni appena compiuto 16 anni quindi la prima esperienza fuori casa è stata è stata una esperienza bella e difficile poi è stato da Montevarchi sono andato a Pomezia proprio dal direttore Claudio Danzi che sono stato quattro anni con lui poi sono andato via sono andato a Riccione per poi trovarmi lo scorso anno ad Arezzo quindi io spero che la scelta che ho fatto di venire qua a Sora non è sbagliata io mi trovo benissimo mi trovo benissimo con questa società con la città con le persone che vivono quotidianamente questo sport a Sora io voglio dire un'altra cosa se Scarda l'ha scelto Sora se Rocco Giannone ha scelto Sora se Simone ha scelto Sora voglio dire non l'hanno fatto per caso se Pintori ha scelto Sora no no è detto benissimo hai fatto nomi importantissimi perché Scarda Pintori e Giannone io penso che pochissime squadre hanno giocatori del genere ed è per questo che l'amaro in bocca rimane perché inizialmente io ci credevo tanto a questo campionato non è finito per carità è molto difficile adesso però mi dispiace perché ero partito con buoni presupposti poi in questa categoria ci sono playoff ci sono tante cose e quindi speriamo di iniziare a fare grandi cose come stiamo facendo e quindi di continuare bene e magari sognare anche perché da ieri è aperto anche il mercato qualche regalino Fabio e Andrea sicuramente lo faranno al Sora anche perché bisogna rinforzare quelle pedine che sono venute a mancare bisogna sostituire Shiba bisogna sostituire Masi vuol dire qualche altra cosa bisogna sostituire Shiba Masi Mucciarelli non sono nomi così perché Masi e Shiba lo scorso anno hanno vinto il campionato e Mucciarelli l'ha perso all'ultima giornata ed erano giocatori importanti per le loro squadre quindi togliere questi giocatori a una squadra non è mai facile però so che la società sta vedendo bene si sta muovendo bene quindi aspettiamo bene allora noi siamo giunti quasi al termine Simone andiamo a vedere il prossimo turno che cosa ci aspetta domenica prossima perché il Sora adesso giocherà due partite in casa giocherà praticamente contro la Strea domenica e poi giocherà la successiva partita contro il Fondi Budoni San Cesario Fondi Porto Torre Esesora Lilianzio Lavigno Latte Dolce Terracina Lupa Roma Cinzia Maccarese Giada Arzachena Olbia Nuova Santa Maria delle Mole Palestrine Selargius e Sora Astrea diciamo che secondo me la partita che può dire qualcosa è questo Budoni San Cesario questo Budoni che non si capisce cioè se che cosa vuole fare se vuole andare avanti con questo tipo di discorso oppure vuole fermarsi perché alterna belle prestazioni magari non prestazioni vedi domenica per esempio contro il Terracina no? Sì questo è proprio il classico sintomo di essere una squadra giovane il Budoni è una squadra giovane quindi alterna queste prestazioni bellissime a prestazioni meno belle però è una squadra strutturata anche essa bella in un buon modo e quindi può succedere tutto può vincere con tutti e può perdere con tutti per quello che ho visto io due partite in casa possiamo dire sei punti magari magari mettere la firma diciamo che sono partite sono partite difficili perché la Strea la Strea ha pareggiato con Porto Torres però è sempre è sempre una grandissima squadra invece il Fondi dal canto loro hanno una squadra giovane ma ben strutturata con un buon allenatore e quindi è molto difficile speriamo noi in casa abbiamo difficilmente sbagliato speriamo di non sbagliare proprio in queste due partite sicuramente sicuramente sì anche perché voglio dire hai detto giustamente che il Fondi è una squadra giovane una squadra che sa anche rimontare una squadra che riesce a giocare un certo calcio la Strea anche essa ha dei giocatori importanti e sicuramente metterà anche sul piatto della bilancia questo tipo di discorso che idea ti sei fatta ultima domanda e chiudiamo delle Sarde le Sarde io ho sempre sempre avuto un pensiero che durante durante l'anno una Sarda fa sempre parte delle prime tre quest'anno è l'olbia forse la più la candidata a stare più in alto e a oggi invece le altre squadre le Sarde sono molto molto strutturate in maniera in maniera diversa dai scorsi anni perché sono molto più giovani e purtroppo io adesso mi hai fatto un assist per parlare del disagio che ha avuto questa regione quindi io mi stringo a loro per il dolore che hanno vissuto e a me è rimasto impresso il gesto che ha fatto Pintori alzandosi la maglia sì da buon sardo lui è sardo è nato in Sardegna e quindi se l'è sentito di fare quel gesto gesto bellissimo che purtroppo l'arbitro ha usato soltanto le regole non ha usato il buon senso però se ci hai fatto caso gli ha dato prima la mano e poi lo ha munito sì 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 assolutamente quindi ha usato il regolamento il buon senso purtroppo il regolamento è il regolamento però è stato è stato un gran gesto da parte di Andrea grazie a Simone Mastro Mattei ringraziamo il Sola Calcio per averci mandato il giocatore questa sera a discutere a parlare a farci questa chiacchierata con voi per quanto riguarda il campionato di Serie D Giro NG e noi vi salutiamo vi diamo appuntamento sempre a martedì prossimo intorno alle 22.15 per un'altra puntata di Bordocambo Serie D buonanotte a tutti grazie a tutti